vedi stai facendo stai facendo una grande confusione purtroppo il tempo che corriamo oggi della profezia i cavalieri tutta la bibbia che è stato scritto la gente perderà il cervello ma non tutti alcuni si salveranno tu fai una grande confusione amico mio perché un medico un giudice un politico lo stato quello che in primis quello che ti dà il respiro è dio perché sei sempre un essere umano non sei al di sopra di niente un cazzo non sei un cazzo puoi essere miliardario è carta è carta puoi essere povero non cambia niente io ti dico la mia opinione come le penso io ci sono alcuni prescelti lasciamo perdere le idee dell'olimbo fantasia perché il mondo è stato creato così dio quello che ha creato l'universo e tutto il resto che si chiama perché noi viviamo in questo non abbiamo mai visto dio non sappiamo io però quella che è la sensazione che ci porta alla bontà al benessere che pensando a questa che è esistenza energia quello che è quello che ti fa respirare ma vale per tutti noi lasciamo perdere il cinema il film tutte queste cose che sono state create la fantasia oppure c'è di vero può darsi ma bisogna vedere come ti posso dire alcuni prescelti nel mio caso che hanno delle visioni non dico che vedo il futuro a step a step io ti dico che alcuni saranno salvati alcuni no perché il tempo che sta la profezia se tu vai a leggere la bibbia è stato scritto così sono i quattro cavaliere che stanno facendo il percorso a me la religione non me la dà nessuno né musulmano né testimoni di geova né dei dell'olimbo io dio ce l'ho qua 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 ce l'ho nel cuore ce l'ho in questa in questa ossa ce l'ho per me dio non per te ho visto quella visione e ti devo dire sulla visione che ho fatto quello farà una brutta fine ora prendi il dito e metti nel culo per bene ritardato nessuno può battere dio se quello dice il caso che il mondo va a fangulo il mondo va a per bene ma te lo metto pure io non ti preoccupare